Nella giornata di ieri, lunedì 18 gennaio 2021, anche il Museo Archeologico Nazionale dell'Alta Valdagri ha riaperto i battenti. È stato compiuto forse il primo passo verso un lento, ma davvero auspicato, ritorno alla normalità. Riparte dunque la sfida per la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e culturale del nostro territorio, come in tutti gli altri Musei Lucani, anche a Grumento Nova, sarà possibile visitare gratuitamente la struttura fino al 29 gennaio, salvo il sabato e la domenica come previsto dalle disposizioni governative. Intanto la direzione regionale Musei della Basilicata fa sapere che già nella giornata di ieri si è registrato un significativo e per molti versi inaspettato numero di ingressi. Ci auguriamo davvero che questo dato sia di buon auspicio per un futuro in cui, anche in Valdagri, la tutela del patrimonio storico e culturale possa tornare a giocare un ruolo strategico per lo sviluppo di questo territorio. Grazie a tutti.